Grazie a tutti. La Mobility Manager ha pensato di dedicare un focus sugli spostamenti casa e lavoro, mettendo enfasi sul fatto che la bicicletta, che è uno dei mezzi di spostamento più ecologici in assoluto, debba stare un po' al centro di questa giornata di sensibilizzazione. Ripeto, di sensibilizzazione perché la settimana europea questo dovrebbe fare. Molti passi sono stati fatti rispetto al passato, soprattutto riguardo alla mobilità urbana. Una mobilità che sempre di più assume un interesse anche alla luce della grande pandemia che abbiamo vissuto legata al virus Covid-19. Il trasporto pubblico, il trasporto individuale sono assolutamente messi a dura prova perché nelle grandi città tali spostamenti che già erano critici in un paese come il nostro rischiano di diventarli sempre di più. Allora, quale mezzo migliore dell'utilizzo della bicicletta? Un mezzo ecologico che ti consente di vivere bene i percorsi del tuo contesto, che è di fatto un mezzo che davvero ha emissioni zero e contribuisce anche a tenere in forma l'utilizzatore. Quindi bene questa campagna, ripeto, l'auspicio di queste campagne è che poi chi deve decidere, l'amministratore locale e il legislatore nazionale, tenga in considerazione queste esperienze anche di grandissimo livello che vengono fatte durante questi momenti, che possano poi diventare delle prassi comuni per uno sviluppo e una convivenza migliore all'interno dei grandi contesti urbani. Grazie a tutti.